Siamo all'aggiornamento quotidiano sul coronavirus. In Puglia chiuse due scuole ad Altamura. Lo ha confermato la sindaca che ha invitato i cittadini e soprattutto i ragazzi alla responsabilità. Preoccupa invece ad Andrea la chiusura di Palazzo di Città per la sanificazione dopo la notizia di 8 casi positivi tra i dipendenti. L'ordine dei giornalisti di Puglia intanto invita giornalisti e operatori alla massima prudenza nell'espletamento delle proprie funzioni. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.766 nuovi casi positivi al coronavirus in Italia. Un centinaio in meno rispetto alla precedente analisi dei dati epidemiologici. Ma sono in calo anche i test fatti. 87.714 contro 104.387. Le vittime sono 17, 7 in più le persone in terapia intensiva. Sono i numeri del bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute. Campania e Lombardia sono le regioni col maggiore incremento giornaliero di contagiati. In Puglia invece ieri sono stati registrati 2.683 tamponi e 76 sono risultati positivi. 30 in provincia di Bari, 12 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 17 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, un caso di un residente fuori regione. Non sono stati registrati i decessi. Ad Andria 8 dipendenti comunali risultano positivi e tra ieri e oggi sono stati effettuati 150 tamponi su dipendenti entrati in contatto diretto. Oggi si sta procedendo anche alla sanificazione del palazzo di città, i cui uffici sono interdetti al pubblico. Ad Altamura invece due scuole sono state chiuse, l'Istituto Tecnico Nervi e la Don Milani. Per il primo il provvedimento si è reso necessario dopo che il dirigente ha saputo di una festa di 18 anni a cui i suoi studenti avevano partecipato e dove poi sono emersi casi di persone positive. Lo ha confermato la sindaca della città murgiana in una diretta Facebook. Le feste in questo periodo non devono essere fatte e non è concepibile che le strutture facciano feste per ballare, ha dichiarato la prima cittadina. Rischiamo un nuovo lockdown e il comune non potrà più sostenere le necessità di tutti. Poi il richiamo alla responsabilità di tutti e di tutte, controllate i comportamenti perché non è più il tempo di scherzare, mentre noi stiamo qui a cercare di risolvere le problematiche che nascono per l'irresponsabilità e a volte la responsabilità penale di alcuni. Nella seconda scuola la Don Milani è stato accertato un caso positivo nella segreteria. Tutto il personale è stato sottoposto a tampone nella tensostruttura allestita dall'ASL, predisposta anche la sanificazione dell'intera scuola. Intanto, a seguito della positività al Covid di Raffaele Fitto e di parte del suo staff, l'Ordine dei giornalisti della Puglia ha annunciato un decalogo per il lavoro in sicurezza degli operatori della comunicazione. Nella nota diffusa viene accolta l'iniziativa giunta dall'UXI, l'Unione Cattolica Stampa Italiana della Puglia, che ha predisposto regole di comportamento in occasione di conferenze stampa a tutela dell'incolumità dei professionisti dell'informazione. È stata anche avviata l'interlocuzione con l'Ufficio Stampa della Fiera del Levante per organizzare al meglio, nel rispetto delle regole anti-Covid e delle esigenze delle redazioni, il lavoro di quanti vi parteciperanno.